Musica Cari telespettatori bentornati negli studi di Fano TV Oggi dedicheremo un approfondimento all'economia ad un importante convegno che si terra a Fano la prossima settimana Do subito il benvenuto a Mirko Carloni consigliere regionale dell'Assemblea Legislativa delle Marche Benvenuto Carloni È il Centro Studi Economia e Territorio che organizza questo convegno finalizzato a delineare le strategie per il rilancio economico regionale Innanzitutto quando si terrà l'incontro? Giovedì 27 alla sede di staccata dell'Università dell'Economia di qui a Fano ci sarà questo importante convegno in cui io sono uno dei relatori e credo che sarà davvero interessante come argomento e anche come dibattito per i protagonisti che interverranno e anche perché in questo momento è quello di cui si sente più l'esigenza cioè quello di conoscere la situazione e poter poi prendere in base alla conoscenza e alle informazioni le decisioni opportune per ripartire economicamente in questa regione che sta soffrendo molto più di altre nella fase di ripresa e ci sono dei fatti che in qualche modo dipendono anche dalle scelte che si intraprenderanno nel futuro non si può rimanere passivi di fronte alla situazione economica che i marchigiani stanno vivendo Ecco quindi cercherete in qualche modo anche di incidere nelle scelte che potrebbero essere poi intraprese in futuro? Beh l'obiettivo di chi ha organizzato l'iniziativa è sicuramente quello intanto di prendere atto e conoscenza delle informazioni, dei dati che riguardano l'economia marchigiana ma ci sono anche diverse azioni che si devono intraprendere sapendo che la strategia con cui si opererà farà la differenza per le imprese e per le famiglie Ecco nello specifico quali sono gli argomenti che verranno trattati? Ci sarà anche un report, un'indagine che verrà svelata? Intanto è un evento abbastanza importante per la città di Fano e anche per la nostra provincia perché Banca d'Italia attraverso il suo direttore Magrini verrà a presentare l'analisi lo studio sull'economia marchigiana che è stato appena elaborato da Banca d'Italia che serve tantissimo anche se sono dati e talvolta possono sembrare noiosi ma in realtà è proprio partendo dalla conoscenza della situazione economica che si possono fare delle strategie Quindi verrà effettuata questa attenta analisi dell'economia marchigiana però come diceva lei c'è ancora una situazione di difficoltà anche nella nostra regione? L'economia marchigiana è cresciuta meno di quella italiana si è sempre più avvicinata alle regioni del sud distaccandosi da quelle del nord e quello che emerge in questo ultimo studio che Banca d'Italia ovviamente presenterà è che rispetto alla fase pre-crisi la nostra è una regione che ha come ritmo di crescita come prodotto interno lordo 11 punti in meno rispetto al 2007 e 4 punti in meno rispetto alla media italiana questo è un fatto che in qualche modo ci deve far riflettere perché il nostro è sempre stato abituato ad essere un territorio trainante comunque in una fascia positiva delle regioni italiane e oggi invece il trend dimostra che stiamo rimanendo indietro ci stiamo allontanando dalle regioni più attraino, più forte e ci stiamo sempre di più avvicinando alle regioni del sud sotto varie caratteristiche e inoltre quello che emerge da questo studio di Banca d'Italia che presenteranno è proprio che il calo di credito che viene erogato alla piccola e media impresa mentre invece viene erogato un po' di più rispetto agli anni prima alla grande industria, a quella a grande sviluppo questo dato fa pensare molto perché la piccola e media impresa marchigiana soffre in modo particolare la mancanza di accesso al credito e questo è una cosa che non può lasciare indifferenti perché il nostro è un territorio fatto da piccola e media impresa anzi da piccolissima impresa ha la più alta densità di partita IVA rispetto all'Italia e la nostra diffusa cultura imprenditoriale è stata sempre abituata ad un accesso al credito bancario e quindi questo convegno invece si pone tra gli altri obiettivi credo quello di parlare di una capitalizzazione e di un rafforzamento finanziario anche attraverso altri strumenti come per esempio il private equity che è uno dei temi su cui si sta discutendo di più anche dai report di Banca d'Italia appunto dimostra come l'accesso al credito è una delle forme di finanziamento ma la nostra piccola e media impresa deve rivolgersi anche ad altre forme di accesso al credito ad altri intermediari finanziari però questo impatta anche nelle scelte della politica perché senza investimenti in sviluppo, in innovazione, in ricerca è difficile che si creino filiere di imprese competitive che creino valore aggiunto e che siano produttive quindi anche le istituzioni possono fare sicuramente la loro parte tra l'altro lei parlando di banche dobbiamo ricordare che è stato presidente della commissione di inchiesta su Banca Marche istituita proprio dall'Assemblea Legislativa quella vicenda che è ancora viva nei ricordi di molti marchigiani perché ancora ne pagano le conseguenze è stato un fatto drammatico e non va sottovalutato perché io dico sempre le marche oltre alla crisi finanziaria globale hanno avuto una seconda crisi con il fallimento di Banca d'Italia e di Banca Marche che poi ha portato a tutte le varie fasi al commissariamento e poi all'insolvenza bancaria e alla nuova vendita di nuova Banca Marche a UbiBanca quindi ha vissuto un momento in cui sostanzialmente i marchigiani le imprese hanno avuto pochissimo accesso al credito con grandi difficoltà, con parametri nuovi con grandi restrizioni, diciamoci la verità tante piccole e medie imprese si sono trovate dalla sera alla mattina non avere più quella disponibilità di credito a cui erano abituate per svolgere la loro attività e questo ha davvero messo in ginocchio la nostra economia e tanti piccoli e medi imprenditori e artigiani che erano abituati a lavorare serenamente facendo quello che sapevano fare oggi purtroppo la realtà è cambiata e se lo Stato, la Regione non fa investimenti opportuni in ricerca, innovazione e sviluppo la piccola e media impresa è sempre più lasciata sola rispetto alla competizione globale rispetto ai mercati che sono sempre più lontani con infrastrutture che ci allontanano ancora di più basti pensare al tema dell'aeroporto quello dei treni, dei trasporti che in qualche modo vedono la nostra Regione sempre più marginale rispetto a Milano rispetto a Roma e rispetto ai mercati globali e questo fa tantissimo differenza per gli imprenditori io che incontro spesso imprenditori piccoli, grandi, medi tutti quanti lamentano il fatto che non c'è una strategia di aggregazione produttiva non c'è un investimento adeguato nel rafforzamento delle imprese e un tema che potrebbe essere innovativo non c'è nemmeno una capitalizzazione importante e questo può avvenire anche attraverso il finanziamento pubblico attraverso i private, equity attraverso altri strumenti finanziari che in qualche modo sopperiscano alle difficoltà anche di sottocapitalizzazione delle nostre imprese quindi insomma sarà un importante confronto tra soggetti istituzionali ed economici perché come diceva Carloni si può fare qualcosa, si deve fare qualcosa manca una strategia beh certamente le altre Regioni hanno puntato su qualcosa in tutte le Regioni c'è un filo conduttore si sono caratterizzate per una vocazione hanno differenziato anche le aggregazioni di imprese hanno favorito la ricerca e lo sviluppo non dimentichiamo che in tutte le grandi innovazioni tecnologiche penso ad esempio a quella delle telecomunicazioni ai cellulari che è diventata uno dei forti trai in innovazione, in prodotti nuovi, innovativi l'investimento pubblico ha avuto un ruolo importantissimo cioè laddove c'è stata grande innovazione prodotti nuovi che hanno cambiato anche il nostro modo di vivere non è stato tutto merito dei preditori privati ma è stata anche una forte strategia di investimento pubblico che ha permesso attraverso la ricerca attraverso l'innovazione e anche attraverso la collaborazione con le università che sono per eccellenza gli enti di ricerca nuove strategie, nuovi prodotti, nuovi brevetti non dimentichiamo che la Apple di cui tutti andiamo fieri perché ha cambiato davvero il modo di utilizzare un prodotto che prima si usava solo per telefonare oggi il telefono invece è utile a fare tutto tranne che a telefonare è stato il frutto, il risultato di grandissimi investimenti ad alto rischio che ha fatto lo Stato americano ha investito in tecnologia in tecnologia di navigazione di strategia nanotecnologie di tattilità, di schermi quindi ci sono tutti i brevetti che sono nati magari per strategie della difesa militare americana che poi con quei brevetti i privati hanno saputo cogliere le innovazioni e le hanno fatte diventare dei prodotti commerciali questo è un esempio ma ce ne sono anche altri non ultimo anche la vocazione turistica se si vuole uscire dalla crisi bisogna anche intravedere una strategia dare regole nuove che favoriscano degli investimenti e fare in modo che anche i soggetti finanziari di mercato investano perché c'è una strategia complessiva di una regione non è detto che sia una sola per esempio la nostra è una regione che si chiama le marche al plurale perché è differente ballata per ballata e quindi ci sono vari settori che differenziano il nostro territorio dal punto di vista economico al nord immobile al sud la meccanica il turismo la manufattura delle scarpe dei vestiti ci sono vari settori in cui le marche erano forti ed avevano delle aziende leader mondiali in qualche modo la grande industria marchigiana è riuscita a rafforzarsi e a farsi valere anche nei mercati globali purtroppo la micro e piccola impresa marchigiana che pure aveva in sé una grandissima eccellenza perché veniva dall'artigianato dalle capacità manuali e in qualche modo da quel made in Italy molto forte molto tradizionale soffre perché non ha le dimensioni è sottocapitalizzata non ci sono in azienda magari manager molto competenti e soprattutto lo ripeto le piattaforme distributive la logistica le infrastrutture gli aerei i treni impattano nella capacità di una piccola e media impresa di essere competitiva con una sua collega o competitor da un'altra parte del mondo certo insomma anche questo sarà oggetto del dibattito che si terrà appunto giovedì prossimo fra poco parleremo anche dei vari relatori intanto ringrazio il consigliere regionale delle Marche Mirko Carloni ed ora do il benvenuto a Jacopo Frattini presidente del Centro Studi Economia e Territorio benvenuto nei nostri studi buongiorno Simona e buongiorno a tutti i telespettatori intanto è doveroso chiederle insomma un po' di questa associazione quando è nata e con qual obiettivo beh l'associazione Centro Studi Economia e Territorio è nata nel 2014 allo scopo di promuovere e diffondere notizie tematiche di natura economica e sociale nel corso di questi anni abbiamo organizzato e definito un'attività convennistica che riteniamo di livello attraverso un comitato scientifico attivo che ogni volta ha valutato attentamente le tematiche le situazioni da analizzare siamo orgogliosi e siamo diciamo molto contenti dei risultati raggiunti perché la nostra prerogativa è sempre stata quella di tenere alto il livello o comunque di analizzare e studiare gli eventi e le situazioni in maniera scientifica e accademica abbiamo avuto l'onere e l'onore diciamo di aver ospitato ministri sottosegretari docenti universitari e tutti quei protagonisti fondamentali nella vita economica e sociale del nostro paese con uno sguardo sia all'Italia ma anche all'Europa e al resto del mondo quindi l'abbiamo fatto pensiamo bene e con grandissima attenzione e soddisfazione e soddisfazione avete organizzato diversi convegni organizzerete anche quello che si svolgerà appunto giovedì prossimo perché lui chiedo quali saranno i relatori bene giovedì prossimo 27 giugno a Palazzo San Michele in Biarco d'Augusto 2 che è la sede di staccata dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Borg organizzeremo il convegno dal titolo Prospettive Economiche e quale futuro per l'economia marchigiana dove avremo l'opportunità e l'onore di avere come ospiti rappresentanti di Banca d'Italia di Banca d'Italia infatti avremo il dottor Gabriele Magrini che è il direttore di Banca d'Italia d'Ancona e il dottor Alfredo Bardozzetti che è economista sempre di Banca d'Italia di Ancona non è abitudine che Banca d'Italia giri e visiti e si apra all'esterno ma siamo molto contenti che abbia scelto la nostra associazione come partner per illustrare il proprio report sull'economia marchigiana quindi sarà anche occasione per capire qual è il loro punto di vista e quali potrebbero essere le soluzioni per invertire la rotta e adottare delle soluzioni strategiche affinché la nostra regione e l'economia della nostra regione riparta insieme a Banca d'Italia avremo il professor Alberto Manelli dell'Università Politecnica delle Marche il professor Ilario Favaretto dell'Università degli Studi di Uri Urbino Carlo Bo e avremo anche Fabrizio Medea che è un rappresentante del fondo Wise Equity che è uno dei più grandi fondi di private equity in Italia sono i relatori di fama diciamo nazionale che porteranno sicuramente il livello della discussione ad un punto molto elevato e siamo molto soddisfatti perché significa che il lavoro che abbiamo intavolato e improntato in questi anni è stato riconosciuto ma soprattutto è stato ritenuto soddisfacente da chi ci sceglie per venire come relatori e per venire soprattutto a discutere sta dando un lavoro che sta dando soprattutto i suoi frutti ma specialmente ha attivato l'attenzione di molti perché abbiamo sempre molti associati persone che si avvicinano alla nostra associazione che ha come ho detto prima l'obiettivo la prerogativa di discutere e analizzare in maniera scientifica tematiche economiche e sociali Io ringrazio anche Jacopo Frattini presidente del Centro Studi Economia e Territorio vi ricordo come leggete alle mie spalle di questo importante convegno dal titolo Quale futuro per l'economia marchigiana che si terrà giovedì prossimo giovedì 27 giugno alle ore 17.30 a Palazzo San Michele a Fano grazie per essere stati in nostra compagnia grazie di nuovo al nostro ospite grazie Simone grazie a tutti i telespettatori di Fano TV arrivederci e buon proseguimento di giornata con i programmi di Fano TV a grazie a tutti ieri